La chitarra di cui parleremo oggi è una chitarra veramente speciale, perché dico una chitarra veramente speciale? Perché non ce ne sono tante in giro di queste chitarre qui. Innanzitutto ringraziamo Remo Ferangeli della Eco che ce l'ha mandata qua a Belluno tramite il Music Shop Bellus come bel regalo di Natale. Questa è una Eco M24 Anniversary. Perché Anniversary? Perché è una celebrazione di quelle che furono le M24 degli anni 70, inizio anni 80. Però questa chitarra ha diverse particolarità rispetto a una M24 normale. E queste particolarità quali sono? Innanzitutto la doppia linea. Qui comandate con questo potenziometro la selezione dei pick up. Ma con quest'altro sotto si comandano le linee. Perché? Perché a due linee, vedete qua, io ho inserito il jack nella seconda linea, ma qui c'è un'altra linea. Quindi potete mandare due jack a due amplificatori e comandarli con questo debut, o uno, o tutti e due, o l'altro. Poi, l'altra particolarità di questa chitarra è i due unbucker, Seymour Duncan, tutti e due splittabili. Altra particolarità, il ponte mobile, vibrato, costruito dalla Eco. Assomiglia a un Bigsme, ma è un ponte che ha una particolarità. Questa vittina, questa bella vittina qui, permette di bloccarlo e trasformarlo in un ponte fisso. Adesso sentiamo un po' le sonorità. Adesso sentiamo un po' le sonorità. Adesso sentiamo un po' le sonore. Adesso lo splittiamo. Si sente il cambio di sonorità. Diventa praticamente un single coil questo unbucker splittato. facciamo lavorare tutti e due unbucker, manico e forte. e poi facciamo lavorare tutti e due unbucker e fissiamo lavorare tutti e due unbucker. Adesso facciamo lavorare solo l'abbacchier al ponte. Grazie a tutti Lo splintiamo per sentire il cambiamento di tonalità Ora tutti e due le macchine splittate Tutti e due Grazie a tutti Come vedete le combinazioni di sonorità sono veramente molte Sentiamo anche un po' di effetti distorti Grazie a tutti Grazie a tutti Una vera macchina da guerra questa M24 Una chitarra che non ha nulla da invidiare alle più prestigiose Gibson, Fender, Paul Dismith e compagnia bella Una chitarra fatta seguendo i canoni di una volta Alcune particolarità non so se riuscite a vedere la chiostra che rinforza il manico E' molto importante questa chiostra, questa salienza sul manico perché a volte succede che con una piccola botarella la paletta si stacca, si fratturi Succede anche sul manico che non ha nulla da invidiare alle più prestigiose E' un rinforzo che evita le possibili fratture E' un rinforzo che evita le possibili fratture